Nel cuore del canti classico e sempre a Panzano, siamo qui con Monia Piccini della cantina Il Palaggio di Panzano. Allora, Monia è una giovane imprenditrice che ha avuto il coraggio di investire nella sua terra, perché Monia è una delle persone più autoctone di questo piccolo centro della Toscana, proprio di Panzano. Intanto ci puoi dire sia te che tuo marito, siete proprio due autoctoni del luogo. Ci dici com'è nato questo incontro e come avete avuto entrambi la volontà di portare avanti questo sogno qui nella vostra terra? Beh, senza dubbio un po' è stata una scelta anche della vita, perché oggi ci troviamo qua, io e Franco, a portare avanti l'azienda di famiglia, che non è stato un percorso facile. Purtroppo dopo la morta di mio padre abbiamo deciso di portare avanti questo lavoro con tutte le difficoltà che ci possono essere nel condurre un'azienda, soprattutto quando c'è una perdita così importante come è stata appunto la figura di mio padre, che nell'azienda svolgeva vari lavori. Franco, il nonno di Franco però, diciamo quindi quello che ci lega all'azienda è che il nonno di Franco era nato al Palaggio. Quindi curiosamente tuo papà aveva la cantina dove in realtà era nello stesso luogo dove era nato il papà di tuo marito. Sembra un... Incredibile. Efectivamente. Bindi era il nonno di Franco, è nato al Palaggio, poi è mezzadro e quindi lavorava a mezzadria al Palaggio e poi ha lasciato la terra del Palaggio e si sono spostate dall'altra parte e mio nonno nel 65 decise di acquistare la proprietà e la terra del Palaggio e di iniziare a coronare un sogno che aveva sempre coltivato da piccolo. Ma è questo che ha fatto incontrare te e tuo marito questa particolarità o tutt'altro vi ha portato alla fine a unirvi? No, in realtà no, noi ci siamo incontrati, penso che tutte le persone del mondo ci siamo innamorati, avevamo entrambi questo sogno. Non ti avevate questo sogno? No, no, assolutamente. Però ovviamente questa storia l'abbiamo narrata in tantissime situazioni familiari come si può ben facilmente intuire. Poi appunto purtroppo la vita ha scelto un po' per noi, forse precocemente, però quando è morto mio padre Franco ha preso immediatamente la decisione di abbandonare il suo lavoro e di affiancarmi in quel percorso che io avevo già iniziato insieme a mio padre diversi anni prima. Non avevo assolutamente preso in mano l'azienda da un punto di vista amministrativo, organizzativo e comunque il vino per me era sempre un bellissimo sogno, però lo vedevo un po' più lontano, sempre una cosa gestita da mio padre. Quindi nel momento in cui siamo stati chiamati a farlo, l'abbiamo fatto nel modo che ci sembrava più vicino a noi. Quindi abbiamo subito accolto l'idea del biologico, siamo entrati a far parte di questo gruppo di Panzano, dell'Unione, che ci ha accolto in modo incredibile, perché essere accolti nel proprio paese, dove comunque ci sono tantissime cantine, tantissime, siamo 22 alla fine, però ognuno ha un'idea diversa, ognuno porta un proprio percorso. È anche un luogo dove hanno investito moltissimi stranieri, hanno investito tante persone di tutta Italia, molti imprenditori, perché comunque è un territorio che fa gola, diciamocelo, perché è una conca d'oro appunto, ha proprio questo nome, ma perché è veramente un territorio miracolato. Quindi non ti è mai venuta invece la voglia di dire me lo vendo, faccio altro, faccio la mamma? Te lo chiedo proprio così a bruciapelo per sapere che cosa poi alla fine ti ha spinto a rimanere e a crederci. Il mio sogno fin da piccolina era quello di fare quello che faccio oggi. Sinceramente, è sempre stato veramente un sogno nel cassetto, l'idea di poter accogliere persone da ogni dove e poter far conoscere il territorio dove sono cresciuta, facendogli capire le bellezze di questo territorio, era veramente un sogno nel cassetto. Quindi per me oggi è vivere veramente un sogno, un sogno che alle volte è molto difficile portare avanti, per tante difficoltà che possono succedere per vari motivi. Ovviamente sono una mamma, quindi è anche difficile conciliare lavoro e famiglia. Tu infatti hai questo vino che io amo molto, che è le bambole, che prende proprio il nome dalle tue due bambine, giusto? Io sono una donna e anche io ho una bellissima bambina. Quanto è difficile conciliare questo lavoro che non ha orari, non ha regole con la vita di mamma? Difficilissimo. Devo dire che non è facile, anche perché spesso magari gradirei passare più tempo con loro, però il dovere chiama a fare altre cose. Quindi cerco di dare quel tempo che ho facendo delle cose con loro e soprattutto cerco di portarle con me per far capire a entrambe quello che io svolgo durante il giorno, per far capire loro quanto è importante per me tutto questo, ma quanto alla fine non rubo a loro del tempo, ma in realtà insieme mi aiutano loro a costruire qualcosa per il loro futuro e anche per noi. Non è facile, senza dubbio non è facile, però come mamma credo che vivere in questo territorio sia anche un bel dono che faccio a loro, perché ogni giorno si svegliano in un luogo dove c'è un'alta qualità della vita, dove ancora c'è un senso enorme di comunità. Pansano, perché proprio ospita persone da tutto il mondo, offre anche un'apertura mentale che da altre parti è difficile trovare. C'è un senso enorme dell'accoglienza e questi secondo me sono valori importanti e è ovvio, non è facile, ma allo stesso tempo penso che sia per loro un grande dono. Un grandissimo dono. Ancora di più, visto che Pansano è un distretto biologico e biodinamico, dove comunque c'è una particolare attenzione anche a tutto ciò che è la sostenibilità ambientale. Ma adesso ti chiedo, visto che appunto questo territorio così vocato, così bello, attira anche tanti turisti, dove li porteresti? Quali sono le cose che non si possono perdere a te che lo vivi come appunto un abitante di Pansano da sempre, quindi una panzanese doc? Quali sono, diciamo, le ricchezze del tuo territorio dal punto di vista turistico? Prima di tutto io suggerisco sempre di fermarsi in piazza, perché la piazza è dove il paese da sempre ha vissuto, dove si incontrano le persone del paese, dove si incontra il produttore, dove si incontra la bottega, dove si respira la vita vera di un paese. Quindi se si vuole conoscere un piccolo paese come Pansano, si va in piazza. Ed è per questo che l'avete scelta anche come posto dove si svolge l'evento di Vino al Vino. Si svolge sulla piazza Bucciarelli di Pansano, che è un po' il centro del paese, l'anima del paese, e lì da sempre è stato un punto, diciamo, di incontro. Quindi quello è uno dei primi posti dove appunto ai turisti io suggerisco di soffermarsi, o comunque di guardare e di vivere quest'anima del paese. Poi abbiamo la Pieve di San Liolino, che è una delle due chiesi del paese, che è bellissima, che ha una storia antichissima e che si affaccia sulla Conca d'Oro. Quindi è un bellissimo punto dove si può ammirare non solo la Conca d'Oro, ma proprio una vista a 360 gradi. Poi ci sono tante piccole strade di campagna, ma ovviamente anche la parte vecchia del paese, dove c'è il nostro castello, il campanile della chiesa, era una delle torri del vecchio castello del paese di Pansano, e dove secondo me oggi si vive ancora proprio l'immagine di Pansano, di quello che era e di quello che è ancora oggi. Non si è trasformato nonostante il numero dei turisti che ogni giorno vengono a visitarci. E infatti numerose volte i turisti a me ribadiscono il fatto che Pansano lo scelgono, perché nonostante il Chianti sia diventato un luogo conosciuto e quindi ben visitato, abbia ancora un aspetto così autentico. E quindi bello secondo me, perché si è saputo mantenere in tutti questi anni un'identità. E l'identità ad oggi è fortemente importante, l'identità territoriale è quello che alla fine i turisti porteranno a casa e anche nei nostri vini. Pansano è molto molto conosciuta, sia in Italia che all'estero, proprio appunto per le sue bellezze. Devo dire che girare per le cantine di Pansano, ogni cantina dove entri dici, oddio che meraviglioso! Questi vigneti con delle viste incredibili, tenuti come veramente giardini di casa. Sono curati nei minimi particolari e hanno tutti quanti queste viste spettacolari, incredibili. Cosa si può fare ancora secondo te per comunicare la bellezza e l'autenticità e soprattutto la qualità dei vini di Pansano? Per la comunicazione io credo che sia importante far capire che tutti i produttori di Pansano hanno da sempre puntato alla qualità in modo sostenibile perché ovviamente, come abbiamo ben detto, è un nostro primo distretto biologico, ma secondo me l'identità importante dei nostri vini è il fatto che sono legati veramente al territorio e quindi riuscire a comunicare questo, far arrivare alle persone il legame che c'è fra i nostri vini e le persone che vivono ogni giorno le nostre aziende, la passione che c'è dietro e questo grande desiderio veramente che ci spinge tutti a fare sempre una qualità migliore, molto più legata al territorio, con identità ben precise e secondo me questa è veramente la parte fondamentale della comunicazione. Benissimo, grazie Monia, grazie davvero di averci fatto vivere anche con la fantasia questo territorio meraviglioso che è il territorio di Pansano, a greve in Chianti, nel Chianti Classico. Grazie. 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 Grazie.